Le mostre declinano quest'anno il tema di More or Less, un tema che affronta la contrapposizione tra scarsità e abbondanza, esplorandolo sotto tanti punti di vista e sotto tanti sguardi. Ad interpretare la dicotomia tra più e meno per la tredicesima edizione di Cortona on the Move, il festival internazionale di fotografia, 30 artisti per 26 mostre, tra il centro storico, la fortezza del Girifalco e la stazione C di Camucia. All'interno della fortezza del Girifalco la mostra Standing Still del grande maestro Massimo Vitali, la mostra presentata per la prima volta nella sua interezza a Cortona e il caso Africo dall'archivio Publifoto di Intesa San Paolo e poi per rafforzare ancora di più il legame con il territorio una collaborazione con Autolinea Toscane che mette a disposizione un autobus su cui ospitare la mostra del fotografo italiano Marco Garofalo incentrata sulle periferie e sulla musica trap come riscatto sociale. Anche una mostra di Fausto Podavini in collaborazione con Medici Senza Frontiere per raccontare il cambiamento climatico. Tra i nomi della fotografia internazionale che partecipano a questa edizione è Larry Fink, il re statunitense del bianco e nero. Un fotografo americano straordinario, ultraottantenne, il quale ha documentato nella sua lunghissima carriera dai grandi del jazz fino ai beatniks e in questa mostra in particolare è una mostra perfetta per More or Less. Larry fotografa le feste, le feste VIP degli Oscar che aveva fatto per tutti gli anni 90 per Vanity Fair dove in qualche maniera è veramente una fiera delle vanità. Non sono quelle persone famosissime che riconosciamo nelle foto che lui fotografa, sono degli attori di questa fiera delle vanità. E questo è messo in contrapposizione con una famiglia che sono vicini di Larry Fink nella Pensilvania rurale, che è una famiglia particolarmente povera. E la contrapposizione nella maniera in cui Larry li fotografa e ce li porta a far vedere a Cortona è veramente il nucleo focus di questa mostra.